Ciao e benvenuti in questo nuovo video e voi direte ma Silvia sei diventata matta perchè hai la mascherina in casa? perchè? perchè Giorgia come vi avevo accennato forse in questi giorni non sta bene e le è salita la febbre non altissima 37,5 37,7 ho chiamato il dottore che ha detto a noi che non abbiamo sintomi di mettere la mascherina e invece a tutti gli altri bambini che stanno male possono non metterla e oggi pomeriggio che oggi è il 29 settembre dobbiamo andare a fare il tampone ci devono ancora dire con sicurezza l'orario perchè subito era partito che lo faceva solo Giorgia poi quando ho detto che comunque anche altri tre bambini non stanno bene e hanno tosse raffreddore mal di gola allora ci hanno detto di fare il tampone anche a loro e poi alla fine per sicurezza o proprio per prassi e quindi per prassi visto che comunque tutta la famiglia mi ha chiamato il dottore ha detto che hanno deciso di farcela a tutti quanti e adesso vediamo un attimino poi quale sarà il risultato speriamo bene cosa volete che vi dica ho un po' paura però incrociamo le dita vi volevo far vedere la novità di cui vi parlavo che è appunto Yves Rocher praticamente vi faccio vedere quello che ho acquistato allora ho preso questo balsamo per i piedi ultra nutriente con lavanda e karité da 75 ml poi ho preso questo gel fresco lenitivo piedi antifatica questi due per i piedi queste due le ho prese per Maurizio perché siccome tiene le scarpe antinfortunistiche tutto il giorno ha bisogno poi di un di un aiuto diciamo per per rilassare i piedi anche questo qua è con la lavanda e poi invece per Giorgia ho preso questo questo gommage alla granita luminosità con Antemis Bio da 30 ml e poi e poi ho preso questa maschera gel purificante con menta piperita bio anche questa qui da 30 ml anche questa sempre per Giorgia poi mia cugina che è molto molto cioè generosa vabbè lo fa con tutte le sue clienti e mi ha dato dei campioncini che alcuni qualcuno l'ha già provato ha provato un campioncino di una crema stupenda e di una maschera non una crema e e poi invece mi ha dato questo qui di questo siero che è da applicare ogni sera dice è una crema riparatrice poi mi ha dato il campioncino di questa crema qui di questo siero qui vegetale poi il campioncino di questa crema crema anti si anti rughe crema anti rughe benefica giorno e poi il campioncino di questo profumo qui e per finire i campioncini di questa crema crema detergente sia così che di quest'altro coloro poi ho fatto quindi mi ha dato anche questo album l'album 11 e da questo ho fatto un altro ordine che adesso vi faccio vedere da quello lì ho preso c'era l'offerta ho preso questi due saponi per le mani uno è alla vaniglia e l'altro invece alle noci di cocco e anche qui mi ha riempito cioè mi ha riempito no? mi ha merato dei campioncini vediamo un po' e questa qui è la crema il gel crema idratante che ho usato era questo qua è veramente molto buona la pelle era morbida sia subito che poi il giorno dopo poi mi ha dato un altro campioncino di questo profumo che devo provare estretamente il campioncino di questo fondotinta in crema ad alta coprenza che proverà Giorgia perché io non mi trucco il campioncino di nuovo di questa crema qui è una crema verde correttrice poi il campioncino di nuovo di questa crema anti rughe e il campioncino di questo fondotinta che è matt c'è scritto sopra è fondotinta apacizzante con polvere il campioncino di by cal e basta poi ovviamente insieme ho mandato l'album nuovo il 12 e da questo qui adesso vi faccio vedere quello che ho preso che grazie all'ordine che ho fatto su questo album qui sono diventata cliente privilegiata apriamo questo e vediamo quello che c'è dentro allora sono riuscita ad aprirlo eccolo qui e adesso vi faccio vedere quello che ho ordinato allora ho preso due shampoo ricci definiti per sabrina sono da 300 ml e sono con estratto di baobab shampoo ricci definiti capelli ricci estratto di baobab senza silicone senza coloranti senza parabeni l'ho preso per sabrina perché lei tenne cioè lei capelli ricci e quindi così almeno vediamo se riusciamo a tenerli lì a bada insomma poi c'era l'offerta di tre gel igienizzanti a 9,95 euro fatti così sono da 100 ml e qui sono fatti così come piacciono a me come vi ho detto così ne scende poco e quindi li ho presi tanto quest'anno servono quindi meglio averne di più poi ho preso un deodorante questo qui è roll un 48 ore purezza con menta piperita bio della gasilli è purificante no di shampoo per i ricci non l'avevo visto sono alba come una tazza ne avevo tre ne avevo trovato ne avevo presi tre poi vado a prendere subito il foglietto in fondo dove ci sono scritte le cose così almeno perché non mi ricordo mica tutto qua qual è la sciampo per i leggi mamma qual è la sciampo è quelli imbarazzolini verdi questi ma sono giganti e in tre per quanti mi pass per quanto mi passerà allora sì ci sono anche dei regali poi ho preso due di questi gel sono gel doccia concentrati uno è sono da 100 ml questo è alla rosa a rosa e questo qui invece fiori di lotto e poi ho preso due maschere per i capelli due in uno una è per i capelli colorati per Giorgia le ho prese e l'altra invece è per riparare i capelli poi sempre in offerta c'erano tre burro cacao alla vaniglia e quindi lo ho preso per le bambine ma è un nino eh una regola non la fare qua non si fa e come omaggio mi hanno ridato un altro gommage granita luminosità e la maschera gel purificante poi mi hanno mandato una borsa per mettere l'ordine ma in questo caso la tengo perché l'ordine era tutto mio quindi non è che me lo consegno il piano sconto e provvigioni queste qua vedete sono io clienti privilegiati e invece poi ci sono quelli per i consulenti di bellezza e praticamente qui spiega che se il mio secondo ordine è di minimo 130 euro entro un mese dalla data di adesione riceverò in regalo questo fantastico set make up e se il terzo ordine è di minimo 150 euro entro un mese dal secondo ordine riceverò in regalo questo profumatissimo set qui adenuit e quindi raggiungendo 320 euro diventerò consulente di bellezza e mi daranno il la borsa il borsone con tanti campioncini eccetera eccetera e poi c'è questo qua appunto che ricorda come bisogna fare e il premio che c'è il regalo che c'è poi adesso guardiamo qui dentro poi mi hanno mandato il volantino con i regali già per natale che è valida dal 30 settembre al 29 ottobre mi hanno mandato un volantino perché questo qui il regalo che vorrei e invece questo quindi è l'esizione di natale e poi invece c'è l'album 13 con tutte le novità e tutti gli sconti prime di natale 2 che ho già visto quelle di natale 1 purtroppo non si può più però ci sono delle cose molto interessanti devo dire no questo qui sono le cose di natale oh wow molto bello e poi c'è vabbè un volantino della campagna dell'album 12 e poi andiamo a vedere invece cosa c'è in questo sacchettino dovrebbe essere un regalo sono due campioncini di due creme qua poi vengono spiegate delle altre cose sono molto felice perché vi faccio vedere una è proprio quella che avevo già questo qui da 7ml di provarlo così poi vi saprò dire se effettivamente anche nel tempo è proprio stupenda come è stata la prima volta che l'ho provata e poi invece ce n'è un'altra che è per preparazione e anche questa qui l'andrò a provare è un trattamento ristrutturante giorno e invece questa qui è un gel crema idratante non stop 48 ore quindi non vedo l'ora di provarle poi vi farò sapere questo qui è tutto quello che ho ricevuto in questo pacco quindi se magari vi interessa qualcosa se volete più informazioni anche per diventare voi consulente di bellezza fatemelo sapere nei commenti e io farò un video dedicato e vi farò sapere allora stiamo scendendo per appunto andare a fare il tampone Sabrina sulla mascherina grazie facciamo due giri adesso scendo io con Giada Sabrina e Pia e poi scenderà Maurizio subito dopo con Manuel Giorgia e Gabriele e niente vi farò poi sapere quando torniamo come è stato e come è andata con i bambini loro più che altro gli altri sono grandi ci sarà Maurizio quindi poi vi aggiornerò quando torneranno a casa mentre invece per loro vi aggiornerò appena appena abbiamo finito insomma e niente speriamo ok abbiamo fatto il tampone e per quello che riguarda me è stato fastidioso perché ce l'hanno fatto solo nel naso è stato fastidioso perché quando andava un po' più in su ovviamente il canale del naso è stato più piccolo più stretto non ha fatto però male era solo fastidioso ecco diciamo e invece vai bambine volete dare la vostra opinione era un pochino fastidioso ma non ha fatto tanto d'orgoglio sì a me però quando hai dato un po' più in su mi piaceva male via l'ha fatto anche via che ha pianto perché l'abbiamo dovuta tenere in tre c'era Sabrina che le teneva le mani un'altra signora che le teneva sempre le braccia e io che le tenevo ferme alla testa ma vabbè le gambe non le teneva nessuno quindi poi è andata giù però siamo riusciti a farglielo e niente pianto un po' subito e poi però si è calmata subito insomma e adesso stiamo andando a casa così partono Maurizio Gabriele Giorgia Emanuele e niente poi appena ci diranno vi faremo sapere nel frattempo siamo in isolamento Giorgia l'escriviti